La manifestazione dove ci sarà, l'anno scorso c'era una macchina sola, una Ferrari sola per pit stop e per simulatori di guida, quest'anno ci saranno due Ferrari e una Red Bull perché abbiamo visto le code che si creavano l'anno scorso di tante persone che volevano appunto ammirare questi boli, quindi abbiamo triplicato l'offerta rispetto all'anno scorso così come oltre a queste macchine dove si potranno fare dei pit stop simulati ci saranno anche delle altre splendide vetture, degli altri splendidi modelli di Ferrari in piazza in esposizione per tutti e poi diciamo che Piazza Trento oltre al luogo dove ci sarà la maggior parte delle associazioni sportive che potranno promuovere la loro disciplina e sarà anche la zona dove le famiglie con i bambini più piccoli troveranno loro modo per poter divertire i propri piccoli.